La Procura della Repubblica di Trapani ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini che precede quasi sempre il rinvio a giudizio per i due braccianti agricoli che alla notte dello scorso 11 novembre ferirono mortalmente a fucilate l'alcamese Enrico Coraci, deceduto due giorni dopo al civico di Palermo per le gravi ferite riportate. Venne colpito quasi a bruciapelo al petto. I due presunti autori di un delitto che scosse l'opinione pubblica sono i fratelli Vincenzo e Francesco Gatto rispettivamente di 22 e 29 anni. Alla base del delitto ci sarebbero, secondo i carabinieri, contrasti nell'ambiente degli spacciatori di droga. L'omicidio venne preceduto da una violenta discussione davanti ad una panineria dalla via tenente Francesco Paolo Lucchese, importanti ai fini investigativi dei carabinieri di Alcamo, testimonianze degli avventori della panineria e filmati dalla videosolveglianza di Piazza della Repubblica, che hanno consentito di dare un nome a un voto ai presunti assassini. La famiglia Coraci, assistita agli avvocati Antonino Vallone, Bruno Vivone e Sebastiano Oddara, si costituirà a parte civile. Dopo la discussione alla lite davanti alla panineria, i tre si sarebbero rivisti poche ore dopo in via Ruiz, in prossimità dall'abitazione dei fratelli Gatto, che avrebbero centrato con un fucile caricato a pallettoni Enrico Coraci. Durante le indagini dei carabinieri, dirette dal capitano Savino Capodivento, il fucile e alcune cartucce vennero trovate nascoste in un cespuglio accanto all'abitazione dei Gatto. Francesco e Vincenzo Gatto sono accusati di omicidi aggravato e porta abusivo di arma. Sono anche implicati in un'indagine parallela, sempre per problemi di droga, che vedono coinvolti il padre e una sorella.